torno guarda è giusto uguale a ieri, siamo di nuovo qua come a me dell'ora è ansa ormai anche starbucks angela angela che freddo sinceramente rispetto agli altri giorni non sento così tanto freddo a me c'è mancata la camminata che ci scaldava infatti stavo dicendo oggi non mi ha ancora beccato va piano che è questa roba di ristoranti italiani arrivo qua mi trovo va piano starbucks va piano ovunque che va piano eccoci qua questo qua è carino eh eh sì ci si è di qua siamo dentro ora sono le 13 carino c'è molto 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 bella l'ultima parte non ho visto molto bella bisogna essere alcuni punti in cui ho detto boh boh ma dopo era un po' un casino si infatti ma se ne è anche bello così cioè ci stava no la prima parte è molto bella e ha molto tempo la seconda dai nei discorsi gli ho detto tutto bello bello cioè erano tutto un continuo bello? si beh caruccio si qui qui ma insomma non è che sia tutto bello è proprio il tuo genere ah sai che cioè per quanto non mi piacciono tanto le cose turistiche però quella zona ci stavamo qua mi sa molto più di perline mmm 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 faccio mi sto registrando? si mamma se non la ci sto per dire? eh va piano va piano ahah fontana di trevi ristorante giustamente mi sembra ovvio siamo già ristoranti davanti alla fontana di trevi guarda la fontana di trevi è qua la fontana di trevi eh è qua la fontana di trevi ah 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 qui ci sono già passati i vini ah 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 2,7 km dai ah 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 quando ti fa male solo un piede ah 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 a me ne vamo a bullizzarmi ah strega ah 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 Dopo un'ora e mezzo ci siamo signori Abbiamo deciso di farci qualche bella fotina di ritora, le stampa Ora gli esempi non sono proprio belli eh Ok la prima è orrenda, la seconda, la terza Sono così brutte da essere belle Infatti il bello di queste foto è proprio questo Eh sono così brutte Quasi quasi sono meglio gli esempi No oggi l'hai forse veramente mi sta durando Sarà che è insieme a durare tipo nulla E quindi c'ho ancora il 50% poco meno Top Cioè top da una parte Perciò carico Meno top da un'altra Cioè oggi è stavolente No io c'è Certo Siamo qua in zona hotel Adesso ho la bambina che ha sonno che è stanca a dormire E poi noi ora decidiamo magari ti facciamo il giretto Perché sono ovviamente neanche le 5 Cioè no Mamma mia è già bucchio Let's go Siamo da soli Volevo passare un attimo a dare Volevo passare un attimo a dare un'occhietta di macbook ma è chiuso Quindi vabbè arriviamo fino alla chiesa bucata Che sono nella strada dell'altro giorno E poi si torna indietro Qui tutto chiuso Io volevo passare anche qua E invece anche qua è chiuso Cioè è proprio domenica Io non ce l'ho qua Io oggi Cioè era tutto aperto Non ce l'ho fatto Cado Invece Peccato E comunque il coso di ieri è illuminato Cioè È illuminato Oh molto carruccio tutto Bristol Ora mi chiudo dentro Ovviamente ci siamo persi E quindi No, è fatto È comodissima questa roba dell'Apple Watch con le mappe Non l'avevo mai usata perché Da quando l'Apple Watch non ho fatto grandi viaggi Cosa così Però Comodissima Super approvata E poi c'è lei che usa Google Maps Vai Carruccio 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 Siamo qua Abbiamo le chiavi Abbiamo lei Questa è per fortuna Questa purtroppo S S Sono le 20 e 30 Mi lanciano le sciarpe Boh Chissà Prima volta Prima volta Prima volta Ci facciamo testare Da giovedì sera Però Carruccio Anche queste Tutte Questi colori Mi piacciono Assai Proprio Carruccio Sì Sì Dove volevamo andare a mangiare chiuso Quindi l'italiano evitiamo Quindi si va dalla signora Si va dalla mitica Signora Quindi gente Per questo video è tutto Bisogna un dia dove finirlo Non lo so A caso Il prossimo video di questa serie E l'ultima sarà Il ritorno Che sarà colmo di cose strane Sì Un video Abbastanza profondo Su alcune cose Quindi Preparatevi Non so Quando uscirà Però questo è l'ultimo video di Berlino Un po' più sottotono Però secondo me è comunque interessante Alla fine Ero 20 minuti di registrazione 10 minuti che erano inutili Li abbiamo tagliati Lasciate like se vi è piaciuto il video Quindi Ciao